Nelle Marche l'incidenza supera quota 106 ma dopo il picco scendono i ricoveri, Acquaroli smentisce il rischio zona gialla, giunta in isolamento per la positività di Castelli. L'assessore regionale sta bene in ospedale, il sindaco di Tolentino. Il focolaio in pneumologia macerata e i contagi salgono da 8 a 12, sanificazione in corso, trasferite alcuni pazienti e stop alle visite. Inchiesta Novax, indagato un fanese, si tratta di un inserviente di 55 anni a Iesi, personale e clienti senza mascherina, discoteca chiusa per 5 giorni. L'Ascoli risparmia un milione in Montengaggi, stasera torna a TV Bicalcio. Samb muta verso la gara di Coppa Italia, domani il notaresco al Riviera. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dedicata alle Marche. Come avete sentito dai titoli, l'incidenza di casi supera quota 106, i contagi giornalieri nelle Marche sono 226 e si conta un'altra vittima. Ma non si rischia la zona gialla, a rassicurare tutti è il presidente Acquaroli in un post, anche perché i ricoveri in area medica sono sotto la soglia critica. Ma sentiamo il servizio del nostro Pierpaolo Flammini. Sale ancora il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti, arrivato a 106,83 nelle Marche, dove si conta anche una vittima di Covid nelle ultime 24 ore. Una donna 85enne di Ancona. Il totale dei decessi è a quota 3.124 dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi sono 226, così distribuiti nelle varie province. 71 nell'Anconetano, seguono Pesaro Urbino e Fermano con 41, Ascoli Piceno 37, Macerata 27 e 9 da fuori regione. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati ben 5.856 e questo ha fatto scendere la percentuale di positività all'8,5%. La buona notizia è che, dopo l'impennata di ieri, oggi sono scesi i ricoveri. E come ribadito dal presidente Acquaroli, non c'è al momento nessun rischio per le Marche della zona gialla. E' vero che nessuno di noi può sapere con certezza quale sarà l'andamento della pandemia nelle prossime settimane, scrive il governatore in un post su Facebook. Ma tuttavia, come detto in altre occasioni, in questo momento il passaggio in zona gialla è da escludere in quanto i ricoveri in area medica sono abbondantemente sotto al limite consentito, ovvero il 15% dei posti letto. Negli ospedali marchigiani sono 91 i pazienti Covid. Meno due rispetto a ieri, anche se ce n'è uno in più in terapia intensiva e uno in più in semi-intensiva, mentre scendono di quattro quelli in area medica. Mentre sono nove quelli attualmente fermi nei pronto soccorso. Acquaroli, che da ieri è in isolamento con tutta la sua giunta per la positività dell'assessore Castelli, parla comunque di fase delicata e raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione concentrandosi nel rispetto delle regole, e cioè di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in caso di assembramento di mantenere un distanziamento e di curare l'igiene delle mani. Questi, che sembrano ormai accorgimenti superati, sono invece sempre molto importanti, sottolinea Acquaroli, per rallentare la corsa della curva pandemica insieme alla vaccinazione e al tracciamento. E dopo la positività dell'assessore Castelli, oggi è stata annullata la seduta del Consiglio regionale. Il presidente dell'Assemblea legislativa a Latini spiega il perché in questo servizio di Ciro Montanari. Ho scoperto di essere positivo, sto bene, e sono in isolamento nella via abitazione, dove continuerò a lavorare per la nostra comunità. Così, l'assessore regionale al bilancio Guido Castelli ha comunicato di essere contagiato. A seguito della notizia della positività emersa alla termine della riunione di giunta di ieri, è stato annullato il Consiglio regionale odierno. Dopo aver sentito tutti i capigruppo, con una ovviamente consultazione di natura telefonica, abbiamo deciso di rinviare, di sospendere e quindi rinunciare al Consiglio regionale per metterci nelle condizioni di una maggior precauzione possibile, sia ai partecipanti dell'Assemblea legislativa, sia ai collaboratori, sia a tutto il personale. Il presidente, gli assessori, il capo di gabinetto e il segretario generale della regione Marche hanno ritenuto opportuno porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglienza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente. A causa dello scarso tempo a disposizione, non è stato possibile organizzare un Consiglio regionale da remoto. Quanto alla possibilità di organizzare proprio in pochissime ore, ma davvero poche ore, perché si è trattato di 3-4 ore di tempo, l'effettuazione del Consiglio da remoto, ciò non è stato possibile proprio per la impossibilità oggettiva da parte della società che gestisce le comunicazioni telematiche per i consigli regionali da remoto, di poterla mettere in piedi e dare a tutti i consiglieri la possibilità di partecipare da remoto. A causa Covid è stato annullato anche il lettore nelle Marche della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che aveva programmato per giovedì e venerdì una due giorni molto intensa. L'assessore Castelli sta bene, continua a lavorare da casa, mentre è stato ricoverato per precauzione dalla scorsa notte in ospedale il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, che si trova nel reparto Covid dell'ospedale maceratese dopo la positività scoperta sabato. La situazione è sotto controllo, fa sapere il sindaco, che ringrazia medici e infermieri molto attenti e preparati. Intanto in Comune si è scongiurato il rischio di un focolaio, infatti i tamponi effettuati su tutti i dipendenti sono risultati negativi. Si comunica inoltre che tutte le attività del Comune sono riprese regolarmente, comprese quelle degli asili nido. A Macerata, all'ospedale, sanificazione in corso, per quanto riguarda il reparto di pneumologia, dove sono aumentati i casi agli otto positivi, tra pazienti e infermieri si aggiungono, infatti, altri quattro degenti infettati. L'ospedale è stato chiuso ai visitatori, accesso garantito invece soltanto agli accompagnatori. La nostra Donatella Lappa ha intervistato la direttrice dell'area Vasta 3, Daniela Corsi. Focolaio Covid all'ospedale di Macerata, nel reparto di pneumologia, dove erano stati accertati otto casi di positività al virus, quattro pazienti e quattro infermieri, ma la situazione si è aggravata. All'esito dei tamponi di oggi, oltre quattro positivi già accertati, si aggiungono ulteriori quattro pazienti che hanno contratto il Covid. Restano quattro gli infermieri positivi in insolamento domiciliare, ma si teme per gli ultimi due pazienti ricoverati in pneumologia che risultano ancora negativi. I quattro infermieri sono asintomatici, sono al proprio domicilio, mentre i pazienti, tre sono stati trasferiti alla struttura di Galantara e uno è in attesa di essere trasferito alle malattie infettive di fermo. Nel reparto è iniziata già la sanificazione al fine di rimettere subito in funzione il reparto. Collacuirsi dell'emergenza all'area vasta 3 di Macerata ha a disposizione anche il Covid Hospital, ma lì la situazione è sempre difficile. Il problema è quello dei sanitari. Se dovessero essere impiegati al Covid Hospital, comunque dovrebbero essere ridotte le attività ordinarie negli ospedali di Civitanova e Macerata. Attualmente nell'area vasta entrambe le medicine d'urgenza sono pulite e quindi stiamo soltanto occupando quegli spazi per pazienti Covid positivi in aree del pronto soccorso dedicate ai Covid. Quali sono le prospettive se i numeri dovessero continuare a crescere? Chiaramente se arriviamo a numeri come ci sono stati nelle pandemie precedenti e numeri elevatissimi sto parlando. È chiaro che voi sapete che nell'area vasta 3 noi abbiamo il Covid Hospital, ma al momento non c'è indicazione all'apertura, all'utilizzazione. Come ripeto, i numeri sono talmente contenuti che possiamo affrontare la situazione attraverso le aree Covid e dei pronto soccorsi. Se si dovesse riaprire il Covid Hospital resta la coperta corta del personale che comunque va ottimizzato e distribuito anche in quella struttura. E quello sarà un capitolo che riaffronteremo poi. Sospeso da domani 17 novembre l'Open Day per la somministrazione delle terze dosi di vaccino al punto vaccinale ospedaliero degli ospedali riuniti di Ancona mentre viene mantenuta la possibilità di fare le prime dosi senza prenotazione. Ci sono state invece proteste al Lab di Pesaro per i troppi accessi di persone senza prenotazione che passano avanti invece a chi la prenotazione ce l'ha. È stato dunque rivisitato il servizio e ce ne parla Thomas Delbianco. Al Lab vaccinale di Pesaro nell'ultima settimana si è registrato un notevole afflusso di persone in fila per la vaccinazione anti-Covid. Più di 500 accessi nell'ultima giornata di apertura ma sono state segnalate anche lamentere da parte di chi si è presentato all'ex Ristò con in mano il foglio della prenotazione ed ha dovuto attendere in coda più di un'ora in alcuni casi anche due ore per chi passava davanti senza prenotazione rivendicando un diritto di priorità una situazione alla quale l'azienda sanitaria e i volontari della protezione civile hanno cercato di porre rimedio organizzando la gestione delle file con due ingressi separati tra prenotati e non prenotati. Stavolta dire a parte che scorre bene però abbiamo gestito la situazione in modo che crea meno problemi c'è una fila dove sono i prenotati e una fila non prenotati che sono ovviamente un numero inferiore o facciamo così ogni dieci prenotati entra un non prenotato e non ha creato il suo problema. E i prenotati diciamo un po' si lamentavano? Esatto, sì è successo questo che magari c'erano davanti dieci persone non prenotate aveva il prenotato aveva magari diritto di precedenza ma era impossibile sostituire e andare a cavare la gente dentro invece così funziona bene abbiamo due fili uno è prenotato e uno è non prenotato. Oggi quanti prenotati ci sono? 350 circa. C'è stato un aumento di persone che vengono a vaccinarsi nell'ultimo periodo? Sì c'è stato un grosso aumento anche un bel numero di non prenotati quello da ben sperare insomma sì anche stamattina un centinaio anche di più non prenotati più 350 prenotati un bel numero anche oggi. La Polizia Amministrativa della Questura di Ancona ha notificato un provvedimento di chiusura per cinque giorni alla discoteca Noirra di Iesi per non aver rispettato nella notte tra sabato e domenica alcuna prescrizione anti-covid in particolare i baristi e tutto il personale addetto alle sale da ballo non indossavano la mascherina così come anche i circa 200 clienti presenti il titolare dovrà pagare una sanzione amministrativa di 400 euro ed è stato sanzionato con una multa da 1600 euro anche un addetto alla sicurezza. Un 55enne dipendente ospedaliero di Fano è stato invece indagato nell'ambito dell'inchiesta sui Novax e no Green Pass affiliati al canale Telegram basta dittatura con perquisizioni scattate in tutta Italia. C'è anche un dipendente ospedaliero 55enne di Fano tra i Novax e no Green Pass perquisiti ieri dalla polizia in varie città italiane nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino nei confronti dei più radicati affiliati al canale Telegram basta dittatura. Nell'indagine sono ipotizzati a vario titolo i reati di stigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e di stigazione a disobbedire le leggi sono 18 gli indagati al momento in tutta Italia le perquisizioni condotte dalla polizia postale dalla Digos sono scattate anche a casa del dipendente ospedaliero fanese con il sequestro di pc, cellulari e altra strumentazione informatica l'uomo alla vista degli agenti si è dimostrato sorpreso poi ha tenuto un atteggiamento collaborativo fornendo tutto il materiale richiesto il 55enne lavora come inserviente a Santa Croce ed è incensurato mai nessun problema con la giustizia l'uomo ci sarebbe andato giù un po' troppo pesante con la terminologia rispetto ad altri indagati il suo ruolo sarebbe più defilato e gli vengono contestate soprattutto le parole utilizzate nella chat ritenute fomentatrici d'odio gli accertamenti serviranno per capire se la figura del 55enne si è più radicalizzata di quanto non appaia una prima verifica Carenza di giovani agenti per il servizio di squadra mobile lungo la Riviera delle Palme è stato questo il tema dell'incontro tra una delegazione del SIURP il primo sindacato dei poliziotti italiani composta dal segretario Massimo Mellozzi e dai componenti della struttura provinciale Benedetto Fanesi e Giuseppe Troiani con il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis l'incontro si è tenuto nella sede della prefettura dove in programma domani pomeriggio c'è il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica qui è stato invitato anche il nuovo sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo tra i temi caldi i recenti fatti di cronaca ovvero una rapina e un'aggressione a danni di giovanissimi ma anche il tema dello spaccio di droga dopo la maxi operazione della squadra mobile si torna a parlare della Bolkestein balneari e imprenditori che operano a San Benedetto del Tronto si sono ritrovati in mattinata all'hotel Calabresi per la riunione organizzata dalla Confcommercio con la presenza dell'avvocato Antonio Capacchione il presidente nazionale del SIB il sindacato italiano balneatori per noi c'era Benedetto Marinangeli è una brutta pagina della giurisprudenza italiana che mette in difficoltà lo Stato italiano perché è una sentenza che non si applica solamente agli stabilimenti balneari ma si applica a tutti gli operatori che ricavano un guadagno dal pubblico demanio e suolo quindi anche i ristoranti, i bar che mettono i tavolini fuori così si è espresso l'avvocato Giuseppe Capacchione presidente del sindacato italiano e balneari della Confcommercio dinanzi ad una platea numerosa ed attenta alla sala Smeraldo dell'hotel Calabresi l'avvocato Capacchione poi punta l'indice sulla politica abbiamo una politica purtroppo debole e anche in questa circostanza lo si è dimostrato non è successo da nessuna parte ne può succedere in nessun paese civile che un giudice ordini alla politica di fare un determinato percorso di riforma oramai anni noi chiediamo una riforma organica del settore che mette in sicurezza questo segmento così importante per l'economia del nostro paese ma come intervenire per trovare una soluzione a questa annosa questione? questa la risposta di Capacchione nel passaggio da un regime ad un altro la Corte Costituzionale ha sempre detto che non solo si può ma si deve adottare una disciplina transitoria noi stiamo lavorando fianco a fianco con il Governo e con il Parlamento per trovare una soluzione a questa bruttura che è stata fatta dal Consiglio di Stato noi crediamo che entro fine anno il Governo e il Parlamento produca una soluzione normativa ed ora andiamo nel capoluogo Ascolano dove è stato presentato ufficialmente il progetto Pizze di Marca l'obiettivo è quello di promuovere le tipicità regionali attraverso un alimento popolare come la pizza dare valore alla cultura gastronomica marchigiana trasformando le ricette tradizionali in farciture di pizze gourmet col progetto Pizze di Marca proposto da Camera Mark e dalla sua azienda speciale Linfa si raccontano le peculiarità dei nostri territori in abbinamento ai vini DOC e di OCG ad oggi 33 ristoratori marchigiani condividono questo ambizioso obiettivo impegnandosi a realizzare le pizze secondo gli ingredienti e le ricette tipiche per ogni provincia sono state elaborate due versioni in base a stagionalità autunno-inverno e primavera estate e prodotti tipici dei vari territori in modo da offrire ai clienti delle pizzerie la possibilità di gustare una regione nel piatto per la prima volta nel menù è presente questa pluralità di elementi della terra marchigiana che inorgogliscono i produttori e rendono la complessità dei territori alla presentazione ufficiale nella pizzeria La Scaletta di Milko Petracci ad Ascoli anche Simone Mariani presidente dell'azienda speciale Linfa unire la pizza agli ingredienti classici tradizionali della tradizione marchigiana dal nord a sud delle Marche con l'eccellenza dei prodotti di questa regione che trovano sulla pizza un'interpretazione nuova moderna innovativa e quindi la creatività degli chef pizzaioli in questo momento non ha limite e allora dall'oliva scolana alla casciotta d'urbino dal finocchio selvatico all'anice di Castignano insomma abbiamo veramente una molteplicità di sapori e di ingredienti che impreziosiranno delle pizze che diventano ovviamente pizze di marca pizze gourmet che piaceranno a tutti i nostri concittadini i produttori aderenti al progetto si impegnano ad attenersi a modalità di realizzazione di questi piatti rispettando requisiti di prossimità e qualità degli ingredienti nel rispetto delle origini le marche si confermano giacimento di prodotti tipici ma non solo enogastronomia iniziative come questa hanno una forte ricaduta soprattutto sul settore del turismo e accoglienza oggi parliamo di pizza però sono tante le eccellenze della nostra regione che dobbiamo porre nel massimo risalto nelle azioni che noi stiamo portando avanti con la Camera di Commercio lo stiamo facendo il presidente Gino Sabatini è di quest'idea che condividiamo noi tutti della Giunta e che ci dà la possibilità come dicevo prima di coniugare enogastronomia con il turismo perché la gente sceglie il territorio e nel momento in cui sceglie il territorio sceglie anche l'eccellenza del territorio enogastronomiche perché poi una volta arrivata nelle nostre città vuole anche godere di queste eccellenze siamo alla pagina sportiva l'Ascoli ha risparmiato un milione di stipendi rispetto alla stagione precedente a quanto emerge da un'inchiesta realizzata dalla Gazzetta dello Sport e questa sera si parlerà di questo tema e tanto altro nel corso di TV Bicalcio dalle 20 e 30 presenta Peppe Ercoli L'Ascoli ha risparmiato un milione in stipendi e quanto emerge dall'inchiesta effettuata dalla Gazzetta dello Sport sul monte ingaggi delle 20 squadre di serie B quella bianconera è una delle tre società che ha tagliato gli monumenti insieme alla SPAL che ha sforbiciato la bellezza di 12 milioni e mezzo e il Lecce meno un milione e 350 mila euro Marchigiani Estense e Salentini sono delle eccezioni in controtendenza rispetto al più 22% che fa segnare la categoria una necessità in casa Ascoli dopo gli sperperi delle prime stagioni firmate da patron Massimo Pulcinelli la speciale classifica degli stipendi cadetti che tiene conto sia dalla parte fissa che di quella variabile vede il club bianconero 14esimo con 7 milioni e 700 mila euro in stipendi non male rispetto all'attuale decimo posto in graduatoria a un punto dai playoff la società più spendacione è il Parma 32 milioni e mezzo mentre quella più virtuosa è il Cittadella 3 milioni e 100 mila euro e nono posto in classifica l'Ascoli è invece 15esimo per numero di giocatori sotto contratto 28 come Vicenza e Perugia anche qui comanda il Parma con 51 tesserati in coda sempre il Cittadella che paga 25 calciatori gli stessi del Benevento ma i Sanniti sono terzi per Montingaggi con 17 milioni di euro spesi e l'Ascoli ha cominciato a preparare la gara di sabato alle 14 all'Ignano sabbia d'oro contro il Pordenone domani dopo l'ennesima parentesi con la nazionale bulgara tornerà in gruppo l'attaccante Iliev nero-verdi ultimi in classifica senza vittoria col peggiore attacco e la difesa più bucata squalificato il Kawakibi 4 gli ex bianconeri Ciciretti Cupis Perri e Barison Ora in serie D i dirigenti della Samb dopo la delusione di Vasto si sono chiusi nel silenzio tutti zitti dopo la sconfitta che ha fatto scivolare di nuovo il rosso-blu a 14 punti dalla vetta ma limiti fisici e strutturali della squadra ormai sembrano palesi domani poi arriva al Riviera il notaresco per la gara di Coppa Italia il servizio di Michele Natalini La Samb vorrebbe forse nascondersi in questo momento convinta com'era di avere svoltato dopo la scelta di Mauro Antonioli per la panchina ma serviva un mago più che un allenatore di sicuro dopo la sconfitta di Vasto quella che ha fatto ripiombare la squadra a meno 14 dalla vitta la dirigenza rosso-blu ha optato per il silenzio Roberto Renzi inibito per due mesi d'accordo in ogni caso solo a margine della vittoria col Castelfidardo dopo gli sfaceli estivi aveva ritrovato la parola senza peraltro nulla aggiungere nulla togliere e gli altri si sono cuciti le bocche anche loro dal DG Luca Faccioli al DS Matteo Sabbadini vero che l'assunzione di responsabilità ha sempre fatto difetto a questa società ma almeno un segnale dopo un momento del genere andava lanciato niente i dirigenti restano dietro le quinte in trincea invece mister Antonioli che appena arrivato 15 giorni fa si è fatto subito sentire doppia vittoria con Porto Dascoli e Castelfidardo poi sul campo della vastesi rosso-blu hanno compiuto non uno ma dieci passi indietro e Antonioli avrà capito che il lavoro che lo attende è assai più duro di quanto previsto i numeri terz'ultimo posto in classifica a meno tre dalla salvezza perché è quello ad oggi l'orizzonte a cui guardare il quinto peggiore attacco con sei gol fatti e la terza difesa più bucata 16 le reti al passivo nel conto anche i mille guai fisici e le scelte di mercato con i quattro giocatori pescati all'estero che non stanno pagando gli alibi questo se non altro la società lo ha riconosciuto più volte sono finiti da un pezzo ancora di salvataggio magari il mercato di riparazione è distante appena un paio di settimane ma la Sam di tempo ne ha già perso troppo 9 delle 34 giornate sono andate oltre un quarto di stagione domani alle 18 il recupero di Coppa Italia col notaresco a Riviera probabilmente lasciando spazio a chi ha giocato meno domenica alle 14.30 sempre in casa il Chieti in campionato altra doppia tappa allora in apnea di rincorsa e in silenzio non ci sono ulteriori aggiornamenti termina qui l'edizione del TG Marche dopo la pubblicità le notizie dall'Abruzzo arrivederci